Oggi ragazzi come potete vedere non siamo in macchina ma siamo al Fabrique di Milano perché vi porteremo con noi nella data italiana del Violet Punk Experience Il nostro corso gratuito è un'altra Grazie a tutti. 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 , 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 ,,, 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 ,,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,,, ,,,,, ,,, ,,,, ,,,,, ,,,,,, ,,,,,,, ,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,